Ho deciso di comporre questi set per aiutarvi con i vostri regali di Natale Partiamo con il primo, ovvero dedicato all'amicizia ovviamente la collana amica con gli orecchini ciliegina per chi non lo sapesse la ciliegia simboleggia un legame molto forte, un'amicizia questo è un set completissimo che è tra i miei preferiti in assoluto perché la perla è un prodotto intramontabile infatti potete utilizzarla in qualsiasi tipo di occasione in questo set in particolare ho inserito i cerchietti con zirconi e perlina una coppia di orecchini perla piccola e una coppia di orecchini perla media fiorello o piello, l'orecchino passantino che secondo me è carino, è indossato solo da una parte per non creare quell'effetto un po' pisantino però se vi piace potete decidere di modificare questo set e inserire appunto due passantini anziché uno tutto quello che vedrete in questo video è acquistabile singolarmente per cui i set potete crearveli anche a vostro piacimento un po' di scaramanzia ci vuole anche in questo periodo con lana, con cornetto e cuoricino rosso che a Natale il rosso è apprezzatissimo per cui ve lo consiglio abbinato a due paio di orecchini ma potete decidere anche qua di abbinarne un paio solo o modificare il set per la vostra mamma o più semplicemente per una vostra amica diventata mamma da poco giro collo con scritto mamma in acciaio inox analergico e orecchini a lobo carinissimi con su il bimbo sono disponibili anche nella versione bimba questo io lo adoro rosso quindi per Natale apprezzatissimo cucinella smaltata con lana in acciaio inox pleccato oro l'ho abbinata all'orecchino passantino ho messo solo un orecchino qua perché secondo me il soggetto è già abbastanza importante potete nel caso abbinarli magari a dei punti luce o più semplicemente delle sfere piccoline sempre in color oro anche questo super richiesto con lana torcion coppia di orecchini cerchietto con zirconi e ciondolino taglio baguette in rosa ciao ciao